Polpette di melanzane, volete sapere come lancio preparate? Siamo girati un po' alふaggio di polsci, ma primeiro e la panza che siamo al caldo del caljo, un po' di polsci e un po' di garganta, come ulupo e un pezzo di destino qui ne sono certi noi, quindi va a lavorare con la gloria di e il pato di un po' di pibe. E poi mettere il nostro il po' di guerra. Sì, come faccio la gloria di un po' di mare. Grazie.